La gara tra il Canicatti e Raffadali in programma questo pomeriggio non verrà disputata, avete avuto la comunicazione soltanto poche ore prima del match, alle 11 del mattino e Raffadali non potrà raggiungere il Canicatti a causa dei blocchi, a causa dell'assenza della benzina, una decisione che voi come società contestate soprattutto per i tempi con i quali è avvenuta? Si possono fare tutte le calunnie per non disputare una gara, io oltre a dare questo non ragione alla federazione e anche alla società del Raffadali perché non è corretto pensare solo per loro e non rispettare gli altri. Considerato che già girava voce da parte di atleti del Raffadali che questa partita veniva rinviata perché c'erano 4 o 5 che non erano in condizioni eccellenti per disputare la gara così importante, ragione per cui hanno cercato la calunnia per farla. E dico ci può stare questa calunnia, però dato il tempo opportuno perché fino a io ieri sera alle 5 ho chiamato in federazione, non era pervenuto niente, mi disse se qualcosa c'è lo mettiamo in comunicazione. Considerato che io anche ieri sera a tarda sera controllando il comunicato non c'era niente, ho pensato che la gara già si disputasse. Ragione per cui la squadra ieri sera del cane cattile è stata chiamata a ritiro con spese aggiunte, giusto che si gioca di sabato pure per giocatori che lavorano, hanno perso la giornata di lavoro. E alle 11 ricevo io al ristorante la telefonata dalla parte della federazione, la signora Costantino, dicendo che c'era pervenuta una telefonata da parte del Raffadali che non potevano raggiungere il cane cattile. Calunnie queste qua perché non stiamo parlando noi né di Messina né di Palermo né di Dio, stiamo parlando di Raffadali e Canicattì. Raffadali e Canicattì distanza 30 km, regione Bercù e con un deposito di carburante all'interno di Raffadali che sarebbe, noi conosciamo, Cuffaro. Sono tutte calunnie queste qua. 13 o 18esimi di giocatori del Canicattì sono di fuori, non sono tutti locali. Ieri sera hanno raggiunto Canicattì, siamo stati in hotel, stamattina al ristorante, cioè tutte queste cose tre ore e mezza prima, non può essere così annullata una gara. Ci vuole rispetto anche per coloro che hanno preparato la gara. Per cui dico che sono sdegnato io per questo comportamento da parte di tutte e due, sia della federazione che ha autorizzato e sia anche di queste del Raffadali perché hanno fatto un giochetto. Questo è il terzo anno che questi qua giocano, però questo vi comunico, sarà una partita di inferno quella con il Raffadali.